Basta, non mi va più. Che ti succede? Stai male? Sto benissimo. Siamo in relax. Che te ne frega? Niente. Sono venuti a vedere la casa. Metti in ordine la stanza. Perché vendete? Ci stiamo separando. Che ci fai ancora qui tra i piedi? È finita, lo vuoi capire? È finita, è finita! Ho i tuoi stessi diritti su questa casa. Certo, certo, sta tranquillo che nessuno ti toglie niente! Brutto stronzo. Oh, signore. Alyosha Slyepsov, 12 anni. Altezza circa un metro e cinquanta centimetri. Sano. Nessun segno particolare. Restiamo uniti! Sento di aver commesso un errore irrimediabile. Non si può vivere senza amore. Perché non dici niente? Perché non dici niente, tu? Non si può vivere senza amore. 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 Grazie a tutti.